Dal Vangelo secondo Marco Una buona domenica a tutti. Due innamorati prima di sposarsi riflettono, non decidono mossi dalla prima infatuazione affettiva, valutano se sono davvero fatti l'uno per l'altro, se coltivano gli stessi sogni, se hanno in mente gli stessi obiettivi. Solo alla fine, quando si sentono pienamente coinvolti in un unico progetto di vita, prendono la decisione di dichiararsi il loro amore incondizionato. Se vogliamo capire che cosa significa credere in Cristo, dobbiamo rifarci all'immagine dell'innamoramento, perché è quella impiegata dalla Bibbia. Nell'Antico Testamento Dio si presenta come lo sposo di Israele e come primo comandamento dice non ti farai altri dei perché io sono un Dio geloso, l'innamorato sa che è l'unico che può rendere felice la persona amata e non vuole che ci siano degli amanti che rovinano questo rapporto. Poi nel Nuovo Testamento è ripresa questa stessa immagine che accompagna tutto il Nuovo Testamento, il Vangelo di Giovanni inizia con una festa di nozze e con il Battista che dice non sono io lo sposo, sta per arrivare lo sposo, io sento la sua voce e sono felice. Il Nuovo Testamento lo sappiamo come si conclude, con una festa di nozze. ce la racconta il veggente dell'Apocalisse al capitolo 19 quando dice rallegriamoci perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta e allora l'angelo mi disse scrivi beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Ecco la conclusione di tutta la storia del mondo. Bene, credere in Gesù non significa ammirarlo per come è vissuto, per ciò che ha insegnato, vuol dire essersi innamorati di lui e decidersi di unire la propria vita alla sua. Ma questo non può avvenire prima che sia stata maturata una profonda conoscenza di lui, sapere esattamente cosa c'è in mente e che cosa accade a chi decide di unire la propria vita alla sua. Quindi necessario un tempo di conoscenza reciproca, un tempo di maturazione di questo rapporto, perché altrimenti ci potrebbero essere delle sorprese in seguito e uno potrebbe dire ho creduto in Cristo ma ho equivocato, mi aspettavo da lui ciò che in realtà poi non mi ha dato. I tre anni della vita pubblica di Gesù sono stati, hanno rappresentato questo periodo di conoscenza reciproca tra gli Apostoli e Gesù. È stato il tempo del fidanzamento. Marco, con il suo Vangelo vuole fare percorrere a tutti noi questo cammino spirituale dei discepoli in modo che arriviamo a capire chi è realmente Gesù prima che avvenga la festa di nozze quando si decide di unire la propria vita alla sua. Nella scorsa settimana noi eravamo con i discepoli a Cesarea di Filippo. Ricordiamo che in quel luogo incantevole il maestro aveva rivolto due domande ai discepoli e la seconda molto provocatoria perché aveva chiesto a loro e anche a noi quanto vi sentite coinvolti con la mia vita. Siete disposti o no a puntare la vostra vita su di me e da me? Cosa vi aspettate? Domanda che è rivolta a noi. I discepoli a Cesarea hanno cominciato a rendersi conto che le cose non stavano andando per il giusto verso perché non era questo che si aspettavano dalle nozze con il maestro. Credo che anche per Gesù quello sia stato un momento di intima sofferenza, non di delusione perché se lo aspettava era troppo impegnativo ciò che lui stava proponendo dice la mia vita sarà questa, vi lasciate coinvolgere sì o no. Non c'è stata alcuna delusione per i loro tentennamenti, se l'aspettava, ma un'intima sofferenza sì l'ha provata, quella dell'innamorato che dopo un anno e mezzo si rende conto di non essere ancora riuscito a coinvolgere i discepoli nel suo amore. È un momento di crisi tra innamorati e Gesù vuole superare questa crisi. Sentiamo che cosa fa. Partiti di là attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. A Cesarea di Filippo Pietro aveva parlato a nome di tutti, aveva rimproverato Gesù per quel che aveva detto ed era stato chiamato Satana. Non ci doveva essere rimasto molto bene e penso che i due giorni di viaggio di ritorno a Caffarno siano stati piuttosto pesanti, segnati da lunghi momenti di silenzio una fragile quiete dopo la burrasca. Quando fra due innamorati si produce una seria incomprensione, cosa si fa? Come la si supera? Uno dei modi è fingere che non sia successo nulla. lasciar passare un po' di tempo, non tornare sull'argomento e sperare che dopo alcuni giorni tutto riprenda come prima e credo che i discepoli abbiano pensato a questa soluzione. Attendere che Gesù si ritrovasse di nuovo in mezzo alla gente, riprendesse a predicare, a compiere prodigi e l'incomprensione sarebbe stata un brutto ricordo. Gesù non fa questa scelta perché sarebbe nascondere la polvere sotto il tappeto. Per recuperare un rapporto che rischia di incrinarsi, due innamorati, hanno bisogno di ritrovarsi loro soli per confrontarsi, capirsi, per sintonizzare di nuovo i loro pensieri, i loro cuori. Meglio provocare una discussione anche dura, arrivare anche a litigare, ma bisogna riuscire a sciogliere il problema. E' ciò che il brano evangelico di oggi ci dice che Gesù ha fatto. Ha deciso di rimanere solo con i suoi discepoli, non ha voluto che qualcuno sapesse dove loro si trovavano, voleva riprendere con loro l'argomento che aveva provocato la crisi. Ricordiamo la reazione di Pietro quando Gesù gli aveva detto io vado a donare la vita. Non poteva accettare di unire la propria vita alla sua e perché, secondo il buon senso di tutti, non ci si consegna un fallimento. Sentiamo come adesso Gesù riprende con loro il discorso. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. A Cesarea di Filippo i discepoli avevano capito molto bene quello che Gesù aveva detto, era stato molto chiaro. Adesso Gesù riprende il discorso non per spiegarsi meglio, ma per provocare i discepoli, per aprire un confronto con loro e far uscire dal loro cuore le obiezioni che hanno dentro. Ed è necessario che questa discussione fra Gesù e i discepoli noi la sentiamo nostra. Come mai? I discepoli hanno fatto tanta fatica ad accettare la proposta di Gesù e noi invece diciamo così facilmente di sì al Signore. Ecco, la fatica che hanno fatto loro a lasciarsi coinvolgere deve diventare la nostra, perché è necessaria una conversione. Questa conversione è molto dolorosa, che richiede la rinuncia a noi stessi, al nostro egoismo. E se pensiamo di poter diventare discepoli senza questa esperienza dura siamo degli illusi. Gesù riprende il discorso dicendo il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Figlio dell'uomo in ebraico significa l'uomo vero, chi è pienamente uomo, l'uomo riuscito. Perché lo sappiamo, uno può essere animale ragionevole ma non essere realmente uomo, chi commenta ingiustizie, violenze, soprusi. Uno può essere un maestro nella gestione della scienza e della tecnica ma se costruisce bombe, uccide, commette ingiustizie non possiamo dire che è realmente un uomo. Ecco, Gesù si presenta come figlio dell'uomo, come l'uomo riuscito. E che cosa prevede che accadrà a questo uomo? Dice sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Non dice ai sommi sacerdoti, agli scrivi, ai farisei, no, è consegnato nelle mani di tutti gli uomini. E chi è che lo ha consegnato? Credo che tutti noi pensiamo subito a Giuda. No, Giuda lo ha consegnato ai sommi sacerdoti. Qui ce n'è uno invece che lo consegna in mezzo agli uomini. E questo i biblisti dicono è il passivo divino, cioè il modo con cui l'Evangelista presenta l'opera del Padre del Cielo. È lui che ha consegnato il suo figlio unigenito nelle mani degli uomini. Questa è la più bella immagine di Dio. Dio è colui che si mette nelle nostre mani. L'amore è mettersi nelle mani dell'altro, è consegnarsi all'altro. L'altro può chiedermi tutto ciò di cui ha bisogno per la vita e colui che lo ama si mette nelle sue mani. Dio si è messo nelle nostre mani. È l'opposto di ciò che noi pensiamo sia l'uomo di successo e colui che ha in mano l'altro che può mettere le mani su molte persone per poterne disporre a piacimento. No, quello non è ancora uomo. Costui è colui che detiene il potere, ma questo potere è l'anti-amore, è l'anti-umano. E come andrà a finire? Cosa faranno gli uomini in mezzo ai quali l'uomo vero si viene a trovare? È un agnello in mezzo ai lupi. Ci sarà un conflitto tra l'uomo nuovo e gli uomini che non lo vogliono, perché vogliono perpetuare il loro mondo dove la legge è quella della competizione in cui si cerca di prevalere, di asservire l'altro, di dominare sull'altro. È un mondo di lupi e quando arriva a questo uomo vero che è un agnello ha il destino segnato e il padre del cielo quando ha consegnato suo figlio nelle mani degli uomini lo sapeva che lo consegnava alla morte. Era l'unico modo per dare inizio a un mondo nuovo, il mondo degli uomini veri che sono gli agnelli. Non andrà a finire così, dice Gesù, una volta ucciso dopo tre giorni risusciterà. Ai lupi che lo hanno ucciso la loro sembrerà una vittoria perché se ne sono liberati era uno fastidioso, doveva essere tolto di mezzo affinché la vita potesse continuare come prima. Quando essere uomini significava essere lupi e fra i lupi i più forti. Gesù assicura non sarà la morte a vincere. Le cose non si concluderanno così. A vincere sarà l'amore. È un'illusione pensare di dare scacco alla morte vivendo da lupi, raggiungendo il potere, dominando, accumulando beni, vivendo per se stessi. Ma chi vive così, vive da lupo, vede la sua vita che se ne va. Viene ingoiata momento per momento dalla morte. L'unico modo per sconfiggere la morte, dice Gesù ai discepoli, ve lo insegno io, donatela per amore, come fa l'agnello che dona la sua vita. Se è trasformata in amore, la morte non la può più toccare. Ogni volta che noi mettiamo a tacere la pulsione egoistica che ci porta a pensare a noi stessi, a disinteressarci degli altri, quando noi amiamo vinciamo la morte. I discepoli non capivano queste parole. Le parole che Gesù ha detto erano chiarissime, ma erano troppo lontane dal loro modo di pensare, dai loro criteri di giudizio, dalle loro attese e speranze. Non erano ancora pronti ad accettare la proposta di essere agnelli. Non riescono ad accettare che per vincere la morte bisogna consegnare se stessi. E avevano timore di chiedere spiegazioni. Invece Gesù voleva proprio che venissero fuori le loro obiezioni. E non c'è da stupirsi che dopo aver udito per la seconda volta lo stesso annunzio, i discepoli non siano riusciti ad accettare la proposta di Gesù e non aprono bocca. Per quale ragione? Perché non vedono l'ora che Gesù cambi discorso. Loro vogliono continuare a coltivare i loro sogni. E se ci pensiamo bene è esattamente quello che accade anche a noi. Se durante una predica noi sentiamo qualcuno che ci presenta il Vangelo autentico, molto provocatorio, che sciocca le scelte della nostra vita, che ci provoca e richiede una conversione. Noi non diciamo che è sbagliato, ma non vediamo l'ora che finisca la predica per parlare d'altro, non di cose cattive, di cose belle, ma d'altro, perché quello è molto impegnativo, troppo. E non pongono domande a Gesù. Lui voleva che gli ponessero domande, ma loro se ne guardano bene. E noi invece le dobbiamo porre queste domande a Gesù. E per porle a lui basta che le poniamo al Vangelo, perché il Vangelo ci risponde. Quindi quando abbiamo queste obiezioni poniamole al Vangelo. Dicevo i Gesù, Gesù voleva essere interrogato, ma i discepoli non parlano con lui. Parlano tra di loro. Sentiamo di che cosa. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada. ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Seduttosi, chiamò i dodici e disse loro, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro. E abbracciandolo, disse loro, chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Gesù voleva che i discepoli gli ponessero delle domande, sollevassero delle obiezioni e loro invece volevano soltanto che lui cambiasse discorso. Quando arrivano a casa, è lui che pone la domanda di che cosa stavate discutendo lungo la strada. Per la via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Tacciono, non rispondono, perché sanno che sull'argomento della ricerca dei primi posti il maestro non lascia correre. Ci sono argomenti che Gesù non ha direttamente affrontato e su questi possiamo discutere e avere anche opinioni divergenti. Ma su quello delle gerarchie, delle carriere ecclesiastiche, dei titoli onorifici, dei baciammani, degli inchini, delle genuflessioni, su questo tema Gesù è stato di una chiarezza assoluta. Per noi titoli onorifici sono cose secondarie, inchini. Per Gesù non è affatto secondario perché questo tocca il cento, della sua proposta di uomo nuovo. È l'uomo vecchio che cerca queste cose, l'uomo nuovo è colui che scende all'ultimo posto, non si aspetta degli inchini, è lui che fa l'inchino e bacia i piedi del povero. Questa pulsione a diventare grandi, a essere importanti, a contare qualcosa. Abbiamo dentro tutti. Cosa fare? La reprimiamo, la soffochiamo, rimarremo insoddisfatti e frustrati. Va soddisfatta, si tratta di sapere come e Gesù ce lo insegna, come soddisfare questo bisogno che abbiamo di essere i primi, di essere egregi, fuori dal gregge, superiori agli altri. Si tratta di sapere come diventare grandi, come essere persone di successo, come essere ammirati, ma da chi? Ecco, lo sguardo degli uomini ci dice se vuoi essere ammirato da noi tu devi salire in alto così ti vediamo tutti. Se vuoi essere ammirato da Dio non devi salire in alto, devi scendere in basso, all'ultimo posto. E quindi Gesù adesso ci spiega come diventare grandi. E l'Evangelista Marco, che non era presente e quindi non sta facendo cronaca, dice che Gesù si è seduto e quando dice questo vuole dirci apri bene le orecchie perché sta dicendo una cosa molto importante. Cosa fa? Si siede perché è il rabbino che parla e chiama a sé i dodici. Erano lì attorno, cosa significa che li ha chiamati a sé? Erano attorno a lui fisicamente ma erano ancora lontani, appartenevano ancora al mondo vecchio, erano uomini vecchi, cioè erano ancora nel mondo dei lupi che competono, non si erano ancora avvicinati al maestro. Ecco, che cosa fa Gesù? Li chiama a sé e non li rimprovera. Capisce la loro condizione? Lui sa che per assimilare la sua proposta di uomo ci vuole del tempo, per essere capita e per essere accolta e dice vuoi essere il primo? Se volete essere i primi? Vi dico come fare. Non dice che è sbagliato voler essere i primi. Va soddisfatta questa pulsione che ci porta a emergere, a sentirci realizzati. Come? Ce lo dice Paolo poi in seguito. Paolo dice amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno e fate a gara, competete pure nello stimarvi a vicenda, cioè nel considerare l'altro superiore a voi. In questo fate competizione per scegliere l'ultimo posto. E Gesù dice vuoi essere grande? Devi essere servo di tutti, devi essere l'ultimo di tutti. Due volte è richiamato quel tutti. La cosa difficile non è tanto il servire perché noi potremmo scegliere, potessimo scegliere chi servire, sceglieremo le persone simpatiche, quelle che ci mostrano gratitudine. No, Gesù dice l'ultimo di tutti è il servo di tutti, che significa essere servo anche di chi ti ha fatto del male, anche del tuo nemico. Perché ci sono dei servizi che noi li prestiamo volentieri, alle persone gradevoli. No, Gesù dice se vuoi essere davvero grande tu devi considerare tutti superiori a te, tutti ti possono dare degli ordini quando hanno bisogno del tuo servizio. E fa un gesto, prende un bambino e lo pone nel mezzo. Il bambino, termine che viene qui adoperato dall'evangelista Paidion, indica l'individuo che per età, per il ruolo che svolge nella società è il meno importante di tutti. I bambini non contavano, non è che non amassero i bambini, li amavano ma non contavano nulla. Se uno vuole avere successo, vuole salire nella scala sociale, non perde tempo con coloro che non contano, con i poveri, con i malati, con i bisognosi. Lui si fa amico, cerca i favori di chi lo può aiutare a salire. I bambini invece sono coloro che hanno solo bisogno di aiuto e di attenzioni e di servizi. E Gesù abbraccia il bambino. Lui, l'uomo vero, l'uomo riuscito, è colui che abbraccia coloro che non contano e dice chi accoglie questi ragazzini nel mio nome accoglie me, cioè accoglie la proposta di uomo che io ho fatto. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana. Grazie.